Buongiorno, siamo di nuovo qui al Club Ipico Oratum, dove riparleremo di avvicinamento al salto, di come vedere le distanze. Cerchiamo di dare della progressione al lavoro, monto un altro cavallo. Prima abbiamo saltato 80 cm nella lezione precedente, adesso un metro. Cercherò di spiegare ove possibile gli avvicinamenti, ma come vi ho detto nella scorsa lezione, la cosa importante è la pratica. Può darsi che sulla cavalla precedente l'avvicinamento fatto andasse bene e con questo cavallo sia leggermente diverso. Com'idea con lui è molto più semplice tenere un galoppo regolare con la femmina di prima. Era più corretto, forse non più corretto, ma lei preferiva una leggera accelerazione nella parte finale. Ricominciamo con l'esercizio di prima. Il verticale e l'oxer sul lato corto. Ecco qui, secondo me, un argomento importante che dobbiamo toccare. Dopo il salto, a mio parere, non è importante che il cavallo si riceva. Certo che sarebbe preferibile che lui si riceva al galoppo sinistro, ma prima di ciò la cosa importante è che il cavallo vada dritto. Quando il cavallo va dritto, rientra bene e corretto, allora poi dopo la posizione del cavaliere è corretta, siamo quasi perfetta perché la perfezione è difficile da raggiungere, la posizione e l'assetto sono quasi perfetti. Allora possiamo iniziare a pensare al far ricevere il cavallo sul piede giusto. Nel senso che se un cavallo si riceve sul piede giusto, è certo che se fa una gara a tempo è più rapido, perché il cavaliere o il cavallo non devono pensare al cambio di galoppo. Dunque, nel momento in cui si parla poi di immediatezza, di velocità, è ovvio che se si riceva il galoppo giusto siamo più rapide per andare all'ostacolo successivo, anche perché se dovete preparare un cambio di galoppo e dovete pensare al cambio, e poi all'ostacolo successivo diventa una cosa un po' più lunga. Bene, due salti a mano sinistra, due salti a mano destra sull'oxo. Vediamo che qua facciamo una cosa diversa, facciamo un po' di preparazione, poi cerchiamo di fare un percorsino. Facciamo una specie di campo prova. A differenza della cavalla che montavo prima, lui anche in avvicinamento rimane un po' più, diciamo, composto, diremmo, ma forse non è corretto, anche perché lui è costruito diversamente, la cavalla è costruita un po' diciamo con il collo rovesciato, dunque l'atteggiamento suo naturale, un po' più con la testa, col collo d'accigno diciamo, e lui è un po' più costruito come andrebbe costruito un cavallo classico. Ciò non toglie che tutti e due i cavalli possono saltare bene, tutti e due i cavalli possono fare questa disciplina in modo semplice. Cercate di fare tutto sempre nel suo sistema, nel senso non andate contro il suo sistema, non andate a rompere un equilibrio, andate sempre nell'equilibrio naturale del cavallo, dunque cercate di lavorare il vostro cavallo nella sua lunghezza naturale. La riunione non è accorciare il collo del cavallo, la riunione è una cosa più complessa, un argomento adesso che io non vorrei toccare, però il cavallo deve, per fare bene i saltostacoli, sapere fare bene le transizioni, allungare e accorciare, dunque ginnasticate il corpo del vostro cavallo alle diverse velocità. Certo è che se riuscite a tenere un galoppo regolare, l'avvicinalmento al salto vi viene più facile, ma poi quello che dovete fare è simulare dei percorsi, fare delle transizioni, anche perché i saltostacoli sono molte transizioni, dopo ogni salto, per riequilibrare c'è una transizione a scendere. Se notate il cavallo è molto forte sulla mano, l'intervento mio non è forte, però diciamo che è severo, finché lui non si lascia andare io resisto, quando lui si lascia andare concedo. Adesso ho fatto il campo prova, disegno un percorso, disegno prima un percorso di gara di precisione, di regolarità, quello che dovrebbe essere l'insegnamento di cavallo e cavaliere, comunque cavallo giovane o allievo giovane, devo prima essere precisi, regolari e montare tecnicamente bene, dopo si può andare più veloce. Alla prossima, Sì Dunque Il percorso è lunghissimo 6 ostacoli Dopo ogni salto Ci deve essere un momento Di decontrazione Un momento nel quale Prima di tutto voi Vi rilassiate Di conseguenza poi il cavallo si lascia andare Dunque prima cosa Dopo il salto Riprendere Il cavallo dopo il salto È un po' sulle spalle Dopo il salto Riequilibrare Rimettere il cavallo sul posteriore Diciamo alzare la nuca Questo prima della curva Se non riuscite ad avere i cavalli giorni Prima della curva Fate la tradizione a scendere All'alta, al passo E poi girate Come quando andate in bicicletta O andate in macchina Prima della curva Abbiamo sempre a rallentare La stessa cosa con il cavallo Ora faccio lo stesso percorso Cercando di andare un po' più forte Vediamo se riusciamo anche A farlo ricevere Al galoppo giusto Il galoppo di base Deve essere superiore Ma La regolarità Ci deve sempre essere Andate solo un po' più forte Potete Più facilmente stare In posizione di equilibrio In posizione di equilibrio direi che va abbastanza bene abbiamo girato un po più stretto il cavallo ha fatto il compito bene dunque se lo fa bene direi che è sufficiente come vi ho detto nella prima lezione se avete domande se avete dei dubbi se avete consigli da darmi scrivetevi su www.horshawjumping.com grazie e buon lavoro